Ciao a tutti e bentornati su Malti Marziali. Oggi abbiamo un nuovo amico con noi, Enrico Ferretti. Ciao Enrico. Ciao. Parliamo un attimo di che ci beviamo, tu che cosa hai, che bicchiere è il tuo? Guarda, io ho una banalissima birra bionda leggera, ho una crumbaker da supermercato, niente di raffinato, ma per me va benissimo, nel dopocena mi piacciono le cose leggere, quindi salute. Allora, alle cose pesanti ci vado io, ok. Io la solita Golden Drac. Te sei più appassionato, diciamo. Eh sì, la solita belga quadrupla, sono dieci gradi e mezzo. Però, beh questa magari mangiando qualcosa del video. Oh, alla nostra. Quindi, salute. Allora Enrico, io ti ho trascinato nel podcast perché avevo letto varie cose che tu scrivi, ti piace tantissimo scrivere e trovo sempre molto interessante il tuo punto di vista. E ho detto, no, vabbè, io lo devo invitare. Tu hai accettato, quindi ti ringrazio anticipatamente, ti ringrazierò anche alla fine di nuovo. E ti ho detto, quando abbiamo deciso di più o meno di parlare di un argomento in particolare, ho detto, guarda, quello che scrivi mi piace, mi interessa. Quindi, come fanno i professori con i raccomandati all'università? Ho detto, facciamo un argomento a scelta. Beh, sì. E quindi, però ti voglio chiedere, raccontaci un attimo chi è Enrico Perretti e come incontra le arti marziali o gli sport da combattimento. Beh, io innanzitutto ti ringrazio per l'invito che sinceramente, diciamo, non mi aspettavo anche perché inviti un sacco di gente famosa, preparatissima di un certo livello, quindi stavolta sei caduto in basso, diciamo, perché hai preso un povero scalzacani che è solo un normalissimo appassionato come migliaia di altri, quindi non ho nessuna caratteristica particolare, tranne la grande passione che mi ha portato un po' a girare anche, ecco. Forse quella è l'unica cosa di cui è appunto una medaglia di aver provato e girato tante cose diverse. Io inizio come tanti con il karate, Shotokan, quindi da ragazzino, su verso i 15 anni, dalle mie parti, io sono marchigiano, provincia di Macerata, e quindi ho fatto karate per parecchio tempo e anche il Kokus Arryu, che è lo stile di Taffaele Montenero, maestro di Cremona che ha fatto anche lui Shotokan per tantissimi anni e poi ha creato il suo stile. Grazie al mio maestro di karate, che era anche, lui veniva anche dal judo, quindi aveva anche un'esperienza dal judo, era giovane e anzi, lo nomino anche, lo ringrazio, Roberto Carota, che ancora insegna sia nella Fiji di Cam, ma lui spazia, insomma, nel karate da tutte le parti, e una mentalità molto aperta e grazie a lui cominciai a fare le prime esperienze interdisciplinari, cioè ci portava lui proprio. quindi vidi la Muay Thai, vidi anche la Kik, così, e nacque in me quindi l'interesse di provare altre cose. Quindi dopo il karate passai la Kik, al full, poi all'atai la Buran di De Cesar, rispondo trovai diversissime cose, tra cui anche la box, ovviamente, di cui poi sono diventato anche istruttore federale, quindi con il corso a Santa Maria degli Angeli, e grazie alla box ho avuto accesso, diciamo, a tutti i corsi del CONI. Essendo io un appassionato, diciamo, di queste cose, dell'approfondimento, mi sono fatto tutti i corsi possibili e immaginabili col CONI, di materie, diciamo, collegate agli sport da combattere, attimente alle arti marziali, e quindi ho provato un po' di tutto, seminari con tutti i dairandesi che sono venuti in Italia, dal Krav Maga, al Kali Filippino, che questo è un po' materiale tuo, ma pochissime cose. Serrata e Scrim ho incontrato, ho un mio amico che portò Gimmi Tacosa in Italia, feci due seminari con Gimmi Tacosa, molto interessanti, per dirti, adesso, sempre nell'ambito delle arti di marziali al sud-est asiatico, e il Wing Chun anche, il Kung Wing Chun è quello che ho praticato di più, nonostante ho provato un po' di tutto anche del Wing Chun, sia come lezioni, io, per dirti, quando mi interessava una cosa, al di là dei seminari, che poi ovviamente lasciano sempre il tempo che trovano, io andavo proprio, chiedevo proprio, contattavo i maestri, chiedevo lezioni private, andavo per capire se poteva interessarmi tutta la disciplina o qualcosa, oppure no, però diciamo che anche nel bene o nel male, ho sempre voluto andare di persona a vedere le cose, quindi anche quando io magari critico qualcosa, non lo faccio sulla base delle informazioni su internet, diciamo, ma perché magari sono andato, ho conosciuto quella persona, o quello stile, o quel metodo, con tutti i limiti che il singolo può avere, per carità, però mi sono fatto un'idea dal vivo. Leonting? Leonting? Leonting ho fatto una lezione privata con uno dei suoi primi, con quello che lo portò in Italia, diciamo, con Fries, Fries fece una lezione privata. Ah, ok, quindi il Wing Chun scuola Leonting o hai provato anche altri? Ah, no, 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 io Leonting non l'ho mai fatto, questo è stato il seminario che ho fatto per andarlo a vedere, appunto, come ho fatto il seminario con altri maestri o rappresentanti di maestri di diversissimi stili di Wing Chun. No, quello che ho fatto io è stato quello, diciamo, come il Lineage Washulong, con Franco Regalzo iniziato e poi Philip Baier, quindi è quello che ho approfondito ed è quello che poi ho portato avanti, perché io tuttora mi alleno anche nel Wing Chun e ho un mio amico che ha una scuola di Wing Chun, diciamo, di Lineage Philip Baier e vado in questa scuola dove poi si fa anche altro, c'è anche il Cali Filippino, c'è anche il Pugilato, per dire, quindi un po' multistile, però continuo. Sì, questo è l'unico stile cinese che ho portato avanti per bene, ho provato anche l'IQuan, per dire, ho fatto un corso di IQuan, ho tanti amici che fanno IQuan rispetto per quanto riguarda gli stili interni, altri che fanno Tai Chi, diciamo che questo mi ho fatto di girare, mi ha fatto avere amicizie in tutti i campi, in tutte le discipline, quindi ho anche contatti quando non so qualcosa, oppure diciamo non è il mio campo, non è, so a chi rivolgermi, insomma, per avere contatti. La maggior parte però, ecco, adesso sono nel Pugilato e nel Wing Chun, diciamo, sono dove ho la mia maggior parte di amici e nella box tailandese che mi sono rimasti da quando li ho fatti. Ultimamente moltissimi amici sono passati al Brasile a Jiu Jitsu, quindi ho tantissimi contatti anche nel mondo del Brasile. Per dire... Cosa ti piace guardare di più? Scusa? Cosa ti piace guardare di più, come video marziali o sport da combattimento? Allora, qui video, quindi parliamo di internet, così, diciamo, io, come hai visto anche dai miei articoli così, io sono un po' vecchio a scuola, sono un topo da palestra e un nerd marziale, diciamo, se vogliamo. Se devo guardare un video o qualcosa, a me piacciono quelli dove spiegano, dove si spiega qualcosa, ma non con l'intento, magari, adesso arrivo io che ti svelo i segreti del mondo, come fanno tanti, perché c'è anche molto marketing, diciamo, soprattutto in rete, ma quelli che semplicemente si mettono lì a spiegarti il loro punto di vista e le loro opinioni con la massima tranquillità. E apro una parentesi qui, adesso visto che mi hai ispirato con questa domanda, io ho una facilità enorme con i grandissimi nomi di esperti, ma di livello anche mondiale, per esempio nel pugilato, ho delle conoscenze abbastanza preparate, insomma, e così ho facilità, parlo in maniera molto facile a queste persone, cioè sono persone umilissime, tranquille, molte delle quali io ho rotto le palle senza neanche che mi conoscevano, cioè io all'epoca quando ero più giovane, magari io trovavo una mail o un contatto e chiamavo così, cioè senza neanche averli mai conosciuti, per dire. E ho notato che queste persone sono non solo super umili, super disponibili, tranquillissime, ma ci puoi parlare di tutto, dire qualsiasi teoria, qualsiasi cosa, ti spiegano, ti parlano. In rete purtroppo c'è un pinco pallino da campiello sul clitunno che viene là, ti dice ah, tu non hai capito un cacchio e ti aggredisce e ti dice che lui invece adesso ti spiega a lui come si sta al mondo. Ecco, questa è un po' la cosa che mi tiene lontano dai social, dai internet, nel senso di uso, ci sto, sto sui gruppi, sto sulle cose. Poi io dico la mia e tengo un profilo basso e anche questo perché è un motivo per il quale scrivo, più che fare, per il tuo video non sono neanche capace perché io con la tecnologia ci faccio a cazzotti, però mi piace leggere, mi piace scrivere, mi piace informarmi. Fatti che ti alleniamo. Parlo della mia passione. E il che non mi impedisce di allenarmi, adesso non voglio fare lo splendido però, tutti i giorni o quasi, quindi diciamo che non so così un teorico e basta, ecco, mettiamola così. Mi piace unire la teoria alla pratica. Enrico, io ti ho visto in un video, leggevo quello che scrivevi, però in particolare ti ho visto in un video con il nostro comune amico Angelo Buschi, in cui avete parlato di Winshun e di box. Poi ci arriviamo alla box perché poi è un argomento nel quale ti voglio trascinare assolutamente, dato che credo che sia una delle più grandi passioni che hai. Quando prima ti ho chiesto cosa ti piace guardare, mi aspettavo che tu dicessi gli incontri di box. Sì, guarda, gli incontri li guardo, ovviamente, ma li guardo come uno sportivo, come un tifoso. Io li guardo, tifo, ovvio, prendi anche tanti spunti per carità. Però essendo ecco un tecnico, a me mi piacciono, diciamo, video, ecco, se pensiamo, io pensavo ti riferissi più che altri video che girano su internet così. No, 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 parlavo di video, che ne so, tra un incontro di Tai e uno di box, a cosa preferisci guardare? Tra uno di box e uno di MMA. Tra l'MMA, i tornei di grappling, tornei così, non ho tantissimo tempo a dire la verità. Quindi anche lì magari è... Però ecco, avendoci amici che fanno tutto, anche agonisti, anche professionisti, guardo un po' di tutto, insomma. La box ovviamente è quella che mi piace di più perché la conosco meglio. Cioè, se io vedo un incontro di grappling, non è che ti so dire molto dal punto di vista tecnico, se quello ha sbagliato, se quello ha fatto bene. Già di kick di Tai lo capisco meglio. Sul pugilato mi piace perché vedo cose di cui ho più contezza, diciamo. Quindi sì, diciamo, a livello sportivo, se devo scegliere, sicuramente guardo la box. Io, nonostante la grande passione per le arti marziali, quando vedo comunque un incontro, un bel incontro di box, nella sua semplicità, non si può attaccare le gambe, non si può stradare i calci, non si può fare lotta. Giriamo attorno a quei pugni lì, a quelle tecniche lì. Però quando vedo, devo fare sempre gli stessi nomi perché attualmente Romacenco, Canelo, Whittaker, Usyk, rimango proprio... Cioè, credo che non ci sia nessuno dell'MMA che mi appassioni guardare quanto il pugilato. E oggi conosco molto poco del pugilato. Mentre lo seguivo tantissimo negli anni 80-90, perché era disponibile in televisione quasi ogni giorno. C'erano anche dei programmi. Tu quanti anni hai? Io 48, vado per i 49. Te lo ricordi quel programma che facevano sul re 3 il pomeriggio, verso le 3? C'era un programma, io registravo... Di fatti c'è quell'incontro di Pennacchio contro Ramon Decker che gira. Quello lo registrai io, poi lo misi online e se lo so fregati. Infatti ogni tanto compaiono dei disturbi del mio videoregistratore. Io registravo di tutto. Lì dietro, là sotto, ho 3-4 videocassette da 4 ore registrato a metà velocità, quindi 8 ore. Tutto quello che trovavo di pugilato, di qualunque cosa, da film... Ho capito che il programma dicevo. Il programma dicevo, mi sa ho capito. Ma era la TV privata, non era la Rai? Non era la Rai? Mi sembra che fossero i 3. Ora i 2, ora i 3 il pomeriggio. C'era uno che aveva un forte accento romano, un signore grassoccio con i baffi. Io mi ricordo più che altro, guarda, su un canale privato che faceva sempre vedere questi incontri di questi dell'epoca, che ne faceva vedere tanti, e lo faceva il pomeriggio. Però adesso i titoli non mi ricordo. Stiamo parlando degli anni... dovevano essere gli anni 90, credo. 90, sì, sì, sì. Inizio anni 90. Stavo ancora, gravitavo ancora nel mondo della chicca. Quindi comunque sta più o meno inizionando. Però un'esperienza con questa cosa che hai detto, che la box nella sua, diciamo, semplicità. Ma il regolamento sportivo è quello. Molti, oggigiorno si dice, no? Ah, ma il regolamento ti limita, quindi non è realissimo. Perché oggi la massa vuole la realtà, no? Vuole la realtà, ma... Sì, sì, la strada. La strada, no? Io mi alleno per la strada, non mi alleno per i rinchi. Quindi, che è una scusa come un'altra per non allenarsi correttamente, no? E vabbè, ma il regolamento è quello il bello. Ti dà l'indirizzo tecnico e tattico. Cioè, la specializzazione di una disciplina su qualcosa viene fatta attraverso il regolamento. Quindi non è un limite, se vogliamo. È una cosa voluta. Cioè, è la specializzazione, come c'era anche fin dall'antica Grecia, no? Il cucilato, la lotta, il pancrazio, ok? E quindi, varie specializzazioni e poi, vabbè, una disciplina che univa tutte le altre, che va benissimo. Però è un limite, fra virgolette, sì, ok, per la strada, per quello che vuoi, per la realtà, se vogliamo, teoricamente. Ma è anche quello che ti dà l'impulso a raggiungere il massimo livello possibile in un ambito tecnico e tattico. Che per chi, come me, è un tecnico e appassionato, appunto, di questi temi, è il massimo. Cioè, lavorare su un ambiente in cui sei costretto a fare determinate cose perché solo quelle puoi fare e le altre sono proibite dal regolamento, diciamo. E questo presunto limite, nel momento in cui tu vuoi cambiare il tuo allenamento, quindi cambi la metodologia, cioè cambia l'obiettivo e devo inserire altro, eh, ma inserire altro non è difficile, cioè, per carità, tempo, allenamento, quello che vuoi, ma si fa. Però l'alto livello che hai raggiunto con la specializzazione è quello che lo porti dietro. Ci siamo capiti? Quindi se oggi noi sappiamo tantissimo di come allenarci nei diversi ambiti che potrebbero costituire un ipotetico combattimento reale, diciamo, o combattimento, non lo so, poi reale che significa, in guerra, difesa personale, per strada, vabbè. Comunque, individuato l'obiettivo, cioè qual è il mio obiettivo, oggi noi sappiamo esattamente come allenarci, proprio perché ci sono state tutte queste specializzazioni che hanno portato al massimo livello possibile dei settori del combattimento, chiamiamolo così, e della prestazione fisica in generale, e quindi oggi noi abbiamo una marea di nozioni, di informazioni che gli addetti ai lavori, i professionisti, sanno scremare, sanno selezionare, per avere il massimo risultato in base all'obiettivo. Infatti qui vado un po' oltre, e mi scuserai se magari risulterò un megalomane forse, ma io che ho una preparazione che ritengo base, cioè io dico sempre, io non sono né bravo né, io ho il minimo sindacale, cioè io di quello che faccio, che insegno, che pratico, posso parlare perché ho un minimo che mi consente di parlarne. Poi ci sono quelli mille volte più bravi di me, e ci mancherebbe pure, però io ho il minimo per poter dire la mia. Quindi chi ha questo minimo può allenare nel suo ambito, chiunque, quindi se tu vieni da me, mi dici Enrico, io a me della box, del winch, della kick, non me ne frega niente, io devo allenarmi a tirare calci o pugni in questa situazione, per questo scopo, per questo, che ne so, per questa durata di tempo, contro avversari che hanno caratteristiche, possono avere abici o situazioni, così, così, così. Che mi fai fare? E io qualcosa so dirti, perché appunto ho quel minimo sindacale di preparazione sulle mie cose, che le so adattare a qualsiasi scenario. Quindi quando a me mi vengono a dire, eh ma il pugile, l'allenatore di pugilato non può dare niente per la strada, o quello di kick, o di thai, no, di brasilian giudizio, perché la realtà è diversa, oppure discorso anche contrario, chi fa, che ne so, craft mag, difesa personale, non ti può dare niente per la situazione. Non è vero, cioè ognuno allena quello che gli serve in base all'obiettivo, in base alla situazione, ma le basi, cioè le cose, sono uguali per tutti. Cioè, il cosiddetto... La meccanica giusta è quella. Adesso io userò qualche... io stai andando a usare un linguaggio tecnico, ma non perché voglio fare lo splendido, perché almeno è come nelle scienze, no? Se tu usi il linguaggio che usa tutti, ti capisci, se ognuno usa una parola diversa per indicare qualcosa... Quindi, i fattori limitanti della prestazione, si chiamano. Io devo fare una prestazione X in un ambito specifico. Allora, andiamo a vedere l'ambito. Andiamo a vedere che prestazione mi serve. Come allenarmi sarà conseguenziale, ok? E varierà. Se io cambio obiettivo, se io devo fare un round a tre minuti, per tre round c'è un tipo allenamento. Se devo farne a cinque minuti, devo farne un altro. Se sono solo colpi, è una cosa. Ci può essere la lotta, è un'altra ancora. Se la famosissima strada, che non ho un tempo, un round o così, ma è solo la mia prestazione a riuscire a difendermi in un ambiente imprevedibile e così, dovrò mediare. Dovrò, quindi, non solo dal punto di vista della preparazione fisica, ma anche tecnico. Perché un conto è fare a cazzotti con uno che fa a cazzotti con me. Un conto è fare a cazzotti con uno che c'è un bastone, c'è un coltello, so più di uno, su uno scenario diverso. Quindi anche l'allenamento dovrà tenerne conto. Quindi il bagaglio tecnico è tattico. Ma tutte queste cose non sono disgiunte. Cioè, in rete, su internet, sui social, sembra sempre di parlare di mondi a sé, separati, dopo ogni cosa, tu fai quello e sei solo quello. Ti mettono un'etichetta, boom, parla di quello. Non è vero, è tutto collegato. Cioè, l'essere umano è sempre quello. E qui torniamo al discorso che avevamo fatto tempo fa fuori, fra di noi, diciamo, no? I video disciplina X contro disciplina Y. Basta stabilire i parametri, cioè, a cosa facciamo? A scacchi? A briscola? A correre i cento metri? A cazzotti? Cazzotti e calci? Tutto? E per quanto? Un minuto? Cinque? Sette? Dieci? Cioè, a seconda dei parametri che mi dai, io ti dirò, guarda, è meglio se ti alleni così, è meglio se ti alleni in quest'altra maniera, è meglio se usi queste tecniche, questa magari mettila da parte perché non ti conviene, eccetera, eccetera. Tranquillo. E soprattutto una cosa, c'è da dire anche di queste cose, cioè, combattono gli uomini. Cioè, se io e te facciamo a cazzotti, ci meniamo, no a cazzotti, ci meniamo, si menano Enrico e Claudio, con le loro esperienze, con quello che hanno fatto, ma non solo, si menano in una giornata specifica, in cui io magari fino a ieri c'ho avuto il virus intestinale e stavo completamente spompato e tu invece ti stavi allenando per una gara e sei super pompato e sei preparatissimo. Oppure magari quel giorno, non lo so, oppure faccio un errore clamoroso che non faccio mai, magari vengo là, mi sbilancio tutti in avanti, apro la guardia e al primo colpo che metti, mi metti giù. Magari se ci facciamo altri cento volte, 99 ti picchio io, ma in quell'unica occasione faccio quell'unico errore. cioè quindi prendere una situazione X e farla come esempio valido per tutti i tempi, per tutte le persone, per tutte le situazioni, cioè un bambino fa questo ragionamento, lo capisco, un addetto ai lavori si mette a ride, ma che sia un preparatore atletico, che sia un tecnico, che sia un atleta, che sia... cioè non ci sono parametri univoci. Abbiamo bisogno di assolutismi. Eh sì, perché è più facile. Abbiamo bisogno di grip, di attaccarci a delle cose che ci diano delle certezze, altrimenti uno viene in palestra a te e tu gli dici in quanto mi prepari per... Boh, che ne so. Chi ti conosce? Sì, ok, ma... mi metti in condizione di potermi difendere. Quando vengono io dico guarda io ormai sono quasi 40 anni, ma a me non mi dà nessuno la sicurezza che viene il primo coglione e non mi corica di botte. Sinceramente non te lo so dire. Sì, però, ecco, però, vedi, non c'è... in tutta questa soggettività c'è dell'oggettività. Cosa sono? Sono i parametri, appunto, oggettivi, cioè l'allenamento basato sulle evidenze, io lo chiamo, ed è quello che io porto avanti indipendentemente dalla disciplina che alleno o chi alleno. Perché come tanti maestri anche che mi è capitato, per esempio io ho conosciuto dei maestri russi che sono venuti nel 2016 quando c'era nazionale che si stava preparando per l'Olimpiadi, venne la nazionale russa a allenarsi. Noi eravamo lì come tecnici che stavamo facendo il corso di tecnici e quindi abbiamo visto le lezioni di questi tecnici russi e uno, Zuffer, ci raccontò che lui allenava gente di tutte le discipline, ovvio per il Pucilato, lui è un tecnico di Pucilato, che poi è allievo di Verkociaschi, era quello che a Verkociaschi quando faceva i test dei saldi in basso lui segnava i dati. Verkociaschi, vabbè, scusa, è un famosissimo preparatore atletico, cioè il padre della piometria, diciamo, lo conoscono, qualsiasi preparatore atletico lo conosce. E lui era quello che gli metteva i dati. Fra l'altro la nazionale italiana era allenata da Filimonov, che è anche lui russo, allievo di Verkociaschi pure lui, quindi per dire c'eravamo proprio il gota lì delle cose. E ci diceva che lui allenava gente di altre discipline. E ovvio, dici, ma come fa un tecnici di Pucilato a allenare un karate? Lui ci raccontava delle sue esperienze con i karateki, con altre cose, kickboxer. Ma lui non gli entrava, lui fa il suo. Cioè, tu gli dici, tu che devi fare? Che prestazione c'hai? Com'è? Io ti alleno per la parte ovviamente del Pucilato. Poi dopo, tu te l'aggiusti per quello che è. Quindi è normalissimo questo. Quindi dicevo, allenamento basato sulle evidenze. Allora, parliamo. Veramente esistono, quante? Migliaia di arti marziali? No? Io chiedo, cioè, perché un tecnico che deve fare, deve fare domande giuste, e in base alle risposte, lavorare. Quindi io chiedo, ok, migliaia di arti marziali. Quante tirano pugni su queste arti marziali? Beh, diciamo che tutte quelle del striking, penso che pugni... Sì, vabbè, i gomiti, i tuttate, quello che vuoi, però, bene o male, gli arti superiori, tante le usano, diciamo pure tutte. Perfetto. E io lì ci posso lavorare, allora. Io posso lavorare con tutti. Posso preparare chiunque. Ah, no, ma quella c'è il pugno speciale, il pugno del dragone, quella c'è la tecchia... Non mi interessa. Cioè, l'allenamento basato sulle evidenze ci dice che l'essere umano è uguale sempre. I fattori limitanti, cioè quello che mi serve per tirare un pugno efficace, è uguale per ogni essere umano, in ogni epoca, ad ogni latitudine, longitudine, in ogni arte marziale, oltre cose. Se poi fai una cosa particolare per un motivo X, ok, me lo spieghi, se ha senso, ne posso tenere conto, ma sta sicuro che io ti posso allenare. Qualsiasi cosa fai, e ti posso far migliorare. Qualsiasi cosa fai, i due pugni. Basta che ho le informazioni giuste e le evidenze è quelle. La biomeccanica è quella, signori. Cioè, io vedo ancora gente... Negli sport da combattimento ovviamente meno, perché c'è meno variabilità. Anzi, negli sport da combattimento c'è il fenomeno opposto, l'eccessiva standardizzazione. Nessuno che pensa out of the box, cioè fuori dalla scatola, cioè pensiero alternativo. Tutti che fanno le stesse tecniche, allo stesso modo, gli stessi allenamenti. Poi arriva o un allenatore che fa un allenamento diverso, o un pugile che fa una tecnica, una tattica diversa, e tutti, oh, miracolo, l'Omacenco, oh... L'Omacenco? Chiunque fa quelle robe. Basta allenarsi per. Non lo farà come lui, ma si basa su cose logiche, allenabili e note, quello che fa l'Omacenco. Sia come preparazione fisica, sia tecnicamente e tatticamente. Ti ci devi allenare. Devi capire quello che fa, se ti interessa. E non è difficilissimo, fra virgolette, cioè, per carità, però si capisce. E poi ti devi allenare. Qui dicevo, l'essere umano è quello. Ci sono sette modi per generare energia per un pugno. Che è quelli? Stop! Perché la fisica è quella, la fisiologia è quella. Le espressioni di forza che servono sono le stesse per ogni essere umano. E quindi, siccome noi oggi sappiamo quali sono gli allenamenti migliori per quell'espressione di forza, per ognuna, come allenarle, sappiamo benissimo come funzionano a livello fisiologico e tutto quanto, e sappiamo benissimo come allenarle, non ti inventi niente. Poi, c'è il metodo cinese di duemila anni fa, del 1500? Perfetto, andiamo a vedere come funziona, cioè, su quali basi lavora fisiologicamente. E io ti dico, senza sapere niente della Cina, non ci devo neanche andare in Cina, io ti dico, se quella cosa ha senso, io, io, un tecnico bravo, uno che c'è il minimo sindacale, dice, guarda, quell'esercizio così, che tu mi dici, usi per sviluppare più, che ne so, potenza esplosiva, non è ottimale, non funziona meglio. Fatti questo esercizio pleometrico e vedrai come va su la tua esplosività. Adesso ho fatto un esempio a Casaccio, inventato di sana piante, adesso, per dire. Quindi dici, no, ma io faccio questa cosa tradizionale, devo fare questo. Ok, se la devi fare perché vuoi fare una cosa, rievocazione storica, e ti piace, sei affezionato, falla. Ma sappi che se ti serve questa caratteristica, c'è questo allenamento che è migliore. Devi muovere, soprattutto le meccaniche sono quelle, ti devi muovere in quel modo e ti devi allenare in quel modo. Come si tirano cazzotti? Cioè, tutti i cazzotti possibili, immaginabili, dell'ambiente umana, che abbiano senso, si basano su se stesse cose. Cioè, il corpo è quello, la fisiore è quella. E queste cose sono state studiate, ma a livelli, che io quando l'ho scoperto, perché pure io, non è che so, nato e imparato, come si dice, no? Io andavo, vedevo, andavo i corsi del CONI, incontravo questi maestri, maestri di scuola russa, maestri italiani, poi io ho avuto il mio maestro di boxe, che lo devo nominare, perché mi ha cambiato la vita, Umberto di Felice, che all'epoca lavorava con la nazionale, che mi ha aperto un mondo, anche lui allievo di Filimano, anche lui atleta, ex campione italiano, poi laureato in scienze motorie, PhD in Inghilterra, cioè uno che, pure lui si è fatto il mazzo, ha studiato, è entrato nella federazione, era entrato, ma ha condotto su sto mondo, e ci sono studi, ci sono cose, pugno forte, pugna hardback, pugni frustati, cioè tutte le meccaniche, le cose, ma a livelli assurdi, quindi non ci inventiamo cose che, cioè arriva quello con il tutorial di YouTube e mi viene a spiegare, ma no a me, a me qua, a me, io imparo da chiunque, a me, io ho imparato cose da gente che, che si allenava da sei mesi, Mari c'aveva una cosa particolare, e ho imparato, guarda, guardandolo, ho anche imparato delle cose magari, ma in generale, non è che su YouTube c'è tutto, ai livelli necessari per poterne parlare, con cognizione di causa, a volte sì, spesso no, ecco, questa è la mia piccola... il piede che gira, che non gira, sì, è buono, scusa, io parlo, mi sto trattenendo, perché io parlo molto diretto, solitamente, e molto comune, io sono marchigiano, quindi marchigiani, un po' come i toscani, sai, hanno la virgola facile, diciamo, come intercalare, quindi, cioè, ancora stiamo a parlare di quello, ma tu pensi, ma in, adesso prendiamo, quella che è una scuola di boxe fantastica, la boxe sovietica, quella russa, che è quella che ha fatto più, insieme a quella americana, sulle due più avanzate, no, che hanno studiato di più, ma voi pensate che dagli anni 50, a oggi, dove solo, eh, Filimono, mi pare che il Tecchio Calenari d'Italia, mi pare che c'ha tipo 400 pubblicazioni sulla boxe, 400, una persona, più tutti quelli prima, che io continuo ogni tanto, cerco, eh, a scoprire nomi, nomi negli anni 40, 50, 60, Tecchi, che hanno fatto studi di questo, cioè, voi pensate che nessuno ha pensato a studiare queste cose, a pensare come porta un pugno, se si gira o meno, che cambia, se con quali nocchi impatto, cosa cambia, se spingo con la gamba, se trasto il peso, se non lo trasto, se spingo in alto, se cado in basso, cioè, voi pensate, voi, noi, possiamo pensare che sta gente non ci ha pensato a studiare queste cose, se il piedino gira o non gira, ma veramente, cioè, anche solo a logica, cioè, deve venire, che ne so, il maestro, adesso, ripeto, io non voglio sembrare essere fissato contro le arti orientali, però, il maestro dalla Cina, dal Giappone, dall'Indonesia, che mi dice, no, guarda, metti il bacino così, gira il piede, metti il piede così, e ti cambia il mondo, per carità. il piede è un grado, due gradi in più, due gradi in meno, altrimenti la tecnica non riesce, o non è quello stile, se non è quello stile, gli antenati non sono con te. Esatto. No, questo, io, non sto scherzando, è così, eh. Eh, ma, allora, dobbiamo decidere, io faccio rievocazione storica, oppure, mi interessa, usarla, sta roba, mi interessa, fra virgolette, la performance, cioè, che questa cosa sia il più efficace possibile. Poi, adesso, sembra, se no parliamo sempre male, spezziamo una lancia a favore della tradizione anche. Ci sono un sacco di cose tradizionali, che hanno un senso nell'ambito in cui sono nate, per lo scopo per cui sono, quindi sono anche lì specializzazioni, o varianti dovute a una causa ambientale sensata. Quindi, tornando a un discorso che abbiamo, che tu hai fatto, io non c'era, del carambit, a me mi sta bene che, in una determinata popolazione, aveva un piccolo strumento da lavoro, che portavano sempre a presso, e imparo come poterlo usare, se mi serve, come arma a difesa, perché ce l'ho sempre addosso. Se io sono elettricista, e c'ho sempre il cacciavite dietro, imparare a combattere col cacciavite, può aver senso. Ma se tu mi dici, io sono un militare delle forze speciali, mi dici, vuoi un coltello, o vuoi un cacciavite, per andare a paracadutarti dietro le linee nemiche? Massimo rispetto per il cacciavite, ma io penso, mi può servire più un coltello. Chi siamo? Però il coltello, lo impari da qualunque coglione, mentre invece il cacciavite, ci vuole l'esperto che te lo venda. Eh sì, esso ero un esempio, perché era una cosa che, tu ne avevi parlato, quindi, mi sta bene, in quell'ambiente, in quella situazione, imparare a usare il carambit, per combattere, va benissimo. Ha senso, lì, basta che poi, quando arriva da me in occidente, non me lo vendi, come, a questa è un'arma eccezionale, perché non è un'arma, a è uno strumento da lavoro, b ha dei limiti grossissimi, come arma. Quindi me lo vendi, se me lo vuoi vendere, come strumento. Stessa cosa, ritornando a bomba, sul discorso del pugilismo, i vari stili di pugilato. Va bene le differenze, va bene le specializzazioni, ma me le devi spiegare, cioè, devono avere senso, su un allenamento, basato sulle evidenze. E ritorniamo sempre lì. Quindi, posto che i fattori limitanti, per tirare un pugno, sono uguali per ogni essere umano, quindi posto che, gli allenamenti saranno, grosso modo, gli stessi, per gran parte, le cose, io, quello che dico sempre io, è che, nel pugilismo, cioè nello striking, quindi, cosa che riguarda me, di cui posso parlare, perché è il mio campo, l'80% dell'allenamento, e quando parlo di allenamento, parlo di allenamento, preparazione fisica, tecnica e tattica, è uguale per qualsiasi essere umano, sul pianeta Terra. Punto. Il 20% restante, ripeto, è una percentuale inventata, fra virgolette, però per dire le proporzioni, grosso modo, è la variabilità, dovuta alla specializzazione, a motivazioni ambientali, che hanno portato a quella specializzazione, al famoso regolamento, se c'è, se parliamo di uno sport, alle famose variabili, che ci possono essere, quindi tecniche, tatti, quindi piccoli aggiustamenti, e alle preferenze anche, cioè, chi ha sviluppato quella disciplina, o quello stile di quella disciplina, perché, ricordiamoci, che all'interno di una stessa disciplina, ci sono altre differenziazioni, la box è una, assolutamente, però se tu la vede, stile messicano, stile sovietico, stile americano, stile europeo, allora vedi che ci so, più possibilità, sempre box è, sempre bugilato è, però si può impostare, in diverse mani, il cubano lo, lo includi nell'americano? No, il cubano è a se stesso, il cubano è la derivazione del russo, i russi mandarono, 60 tecnici, in, a Cuba, perché ovviamente, per la, diciamo, vicinanza politica, per prepararli, e nei vari sport, e quindi loro presero, lo stile sovietico, che era il cosiddetto, il famosissimo stile, quella lunga distanza, quindi col peso un po' più dietro, guardia, braccia avanti lungo, quindi a mantenere la distanza, che prepara le azioni, continuo movimento, movimento a pendolo, e braccio dietro, che spara forte, questo, detto proprio, male, è lo stile sovietico, loro presero quello stile, ma lo missero dentro, con la loro, diciamo, essere latini, essere, diciamo, con la loro ritmo, movimento, musica, anche quindi con la grossa mobilità, e il grosso lavoro di footwork, e crearono, diciamo, piano piano, un loro modo, una loro espressione, di questo, di questo, pugilato sovietico adattato, diciamo, ai Caraibi, e quindi, è uno stile proprio suo, cioè, lo stile cubano, è cubano, cioè, sono loro, ma anche qui, un bravo pugile, può boxare in tutte queste maniere, volendo, e qui ritorniamo, all'evidenza delle cose, quindi, cos'è che deve fare, un bravo pugilatore? Cos'è? aderire a uno stile, aderire alla metodologia? No, prende tutto il primo passo, e non fa cose stupide o assurde, quindi, allenarsi, in maniera basata sulle evidenze, e quando dico pugilatore, io dico qualsiasi disciplina, che tira colpi, perché io, per me esiste solo, il pugilismo, che è tutte le discipline, calci, pugni, gomitati, cinocchia, striking, percussioni, per me tutti i pugilati quelli, pugilismo, la lotta, che è tutte le lotte, dalla sintrumpa sarda, a quella mongola, al judo, sambo, brasilian jiu-jitsu, tutta lotta, per me, e, quelle miste, quelle che prevedono, entrambi gli aspetti, quindi, io, questa è l'unica differenziazione, che riconosco, quindi, tornando a bomba, nei pugilismi, quindi, prima di tutto, allenati, sulla base delle evidenze, quindi, in una maniera sensata, e poi, sviluppare, soprattutto, quello su cui, insisto tanto, e che alleno, chiunque alleno, è la prima cosa che fa, su cui ci batto, sviluppa, quello che ti dà, la flessibilità, la capacità, di poter fare qualsiasi cosa, cioè, le famose capacità coordinative, cioè, gestire il tuo corpo, nella maniera che vuoi, perché, quando io posso fare, tantissime cose diverse, allora, posso adattarmi, alla situazione, all'avversario, e quindi, non c'è più lo stile, non c'è più il metodo, non c'è più, cioè, io posso scegliere cosa fare, la mancanza di possibilità, di scelta, crea ansia, crea stress, crea vicoli ciechi, quando io, per primo, fin dall'inizio, fin dalla partenza del mio allenamento, mi metto in condizione, per esempio, parlando di bugilismi, di tirare qualsiasi pugno possibile, esistente e immaginabile, sulla fascia della terra, qualsiasi calcio, usare qualsiasi tipo di footwork, e tutto il resto, e poi ci avvino le famose capacità condizionali, quindi l'allenamento fisio, quindi forza, resistenza, endurance, mobilità articolare, bla bla bla, quello che vuoi, ecco che a me, alla fine, sono pericoloso o efficace, qualsiasi cosa faccio, cioè, se io, tu fai a botte con me, tu non fai a botte col pugilato, di Enrico, cioè, con me, vabbè, con tutti i miei limiti, le mie grandissime carenze, ma non affronti il mio pugilato, non affronti il mio guincio, non affronti il mio karate, non affronti la mia tai, non affronti tutto quello che ho fatto, affronti me, con le mie capacità, e con le mie esperienze, e con la mia capacità di gestire tutte queste cose in uno scontro, perché poi c'è l'aspetto mentale, perché io posso essere una bestia in palestra, posso sfondare i sacchi, posso allenarmi due ore senza neanche sudare, poi mi trovo davanti a te, boom, prendo il primo colpo, panico, è finita, cioè, arrivederci e grazie, tutto quello che ho fatto, vola fuori dalla finestra, e uno che salirà due tecniche in croce, mi mette giù magari, perché è cattivo, aggressivo, non c'ha paura, prende il momento giusto, io invece sto lì, quindi, è il combattimento, ha tanti aspetti, adesso io, qui abbiamo sintetizzato, io parlo da tecnico, parlo delle cose tecniche, ma poi c'è quelle psicologiche, mentali, quello che vuoi, però, quindi è questo, quindi, signori miei, vogliamo parlare dei tecni, dei tatti, vogliamo parlare delle differenze, tra la disciplina X e Y, perfetto, ma parliamone sulla base, di cose concrete, non come i, i bambini, ha il più forte Mazinger, il più forte Goldrake, è forte tutte e due, dipende come si allenano, e quanto sono bravi, a portare lo scontro, dove vogliono loro, quindi la prima cosa, le capacità, le capacità fisiche, quindi capacità condizionali, ovvio, se tiri tu pugni e c'è il fiatone, o il tuo pugno non fa male, che stiamo a fare, quindi è ovvio che la prima cosa, è l'allenamento fisico, chiamiamolo, capacità condizionali, tutte quelle che ti servono, in base a quello che vuoi fare, ma al secondo posto, ma come importanza, io la metto per primo, perché? Perché capacità condizionali, apri internet, YouTube, trovi duemila cose, che ti insegnano come allenare qualsiasi cosa, o vai da un preparatore atletico, nella palestra sotto casa, già trovi uno, che per quanto non è un fulmine di guerra, più o meno le cose te le dice corrette, e invece le capacità coordinative, quelle non è facile, non solo quelle generiche, cioè coordinazione, che sono fasti giochetti, con le braccia, con le gambe, ma quelle specifiche per una disciplina marziale, cioè quelle che poi io devo portare nel bagaglio tecnico e tattico, e lì ci vuole un maestro bravo, e ce ne sono pochi che fanno questi lavori, e lo dico, ma non nella box solo, anche nella box pochi, un po' di più nella box forse, ma pochi, ma in tutti gli altri sport di combattimento, e arti marziali è pochissimi, tutti fanno il lavoro. che questo dipenda dal livello culturale medio in Italia? Non solo in Italia, io ho scoperto queste cose, ma io perché sennò sembra, ecco arriva un altro che pontifica, io scusate il tono un po' accesi, ma io quando parlo di cose che mi interessano, io non è che voglio imporre la mia idea, però io siccome ho visto la differenza, fra chi fa questi lavori, chi non li fa, e l'ho vista quando? quando appunto a me mi ha aperto le porte, sempre grazie al mio maestro del Bucidato, che mi introdusse alla scuola sovietica di box, e lì vedi che hanno un metodo di allenamento che da noi ce lo sogniamo, cioè lì Filippo non mi diceva, ah, io ho sentito orecchie mie, tecnici anziani chiedere un aggiornamento, ah, io uno, un ragazzo dopo due mesi già l'ho portato a combatte, e io vedo me, scusate, minchia che cazzata, tu l'hai bruciato quel ragazzo, Filippo non ho, allievo di Verkozziaschi, decico russo a livello mondiale, bla bla bla, diceva, ma da noi, un ragazzo dopo tre anni combatte, dopo tre anni noi lo giudichiamo pronto, cioè da noi tre anni, e che fanno questi tre anni? Certo, ovvio che fa sparring, ovvio che fa tutto, cioè non è che passa tre anni in meditazione, però tu per creare le basi, per non bruciare un ragazzo, la specializzazione per esempio, questo è un problema che è in tutto lo sport, si chiama specializzazione precoce, adesso stiamo andando un po' random, ecco i temi, però, che significa, che se tu prendi un ragazzino, in età evolutiva, dove ci sono le fasi sensibili, ogni età, è un periodo ideale per allenare determinate cose, le capacità condizionali, hanno una loro età migliore, quella è gordina di un'altra, e così via, se tu lo specializzi subito, fai box, perfetto, solo box, dai sei anni in poi, box, 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 tutti i giorni, per tutto un bambino è facile che si stufa, perché cresce, vede altre cose, conosce magari, cominciano a piacere gli ragazzine, cioè, quindi già è facile di perdersi così, se tu lo martelli, su una cosa sola, è più facile perderlo, inoltre, essendo molto specifica, come dice prima, ad esempio la box, ma forse anche la chicco, la dai, o anche le MMA, che uno dice, vabbè, sono più varie, ma anche lì, se tu gli fai fare troppo, lo specializzi troppo presto, non raggiunge, magari diventa bravissimo, magari diventa anche campione del mondo, perché, c'è stato tantissimi casi, di campioni del mondo, precoli, che hanno fatto solo quella cosa, da piccolissimi, o al contrario, che sono arrivati tardissimi alla box, ma proprio tardi, però quelli sono le eccezioni, che confermano la regola, cosa ci dice la regola, che la specializzazione è troppo precoce, è sbagliata, Lomachenko ti piace, mi hai detto, perfetto, Lomachenko è l'esempio, di una metodologia, quella che tu trovi sui libri, applicata al cento per cento, Lomachenko faceva box, ma poi faceva pattinaggio, faceva calcio, faceva sambo, faceva judo, faceva danze, danze etniche ucraine, che non le voleva fare, il padre due anni ce l'ha mandato a forza, dice se non fai questo non fai box, non te faccio fa box, e lui non ce voleva andare, ce l'ha spedito per forza, la madre era un'allenatrice decinnastica, diciamo anche questo, quindi ecco, quando vedi che fa la verticale, quindi preparazione multilaterale, che vuol dire, che Lomachenko, quando ha deciso che voleva fare il puzzle, se avesse deciso, io faccio l'atletica leggera, o gioco a calcio, o a tennis, probabilmente sarebbe venuto un campione lo stesso, perché hanno creato, coordinazione impressionante, con una preparazione figlia così, di capacità che può fare tutto, salta, capriole, cose, forza, perché anche molto allenamento di condizionamento, coordinazione, uno così, tu pensa, io dico sempre, io vorrei allenare dei ragazzi che hanno fatto, almeno dai 5-6 anni, una decina d'anni, cinnastica artistica, travi parallele, corpo libero, sai, cinnastica artistica, quelli, se gli fai un po' di preparazione fisica, e c'hanno un po' di tigna come carattere, che non c'hanno paura di menare le mani, quello crei un atleta, crei un combattente, di qualsiasi stile, di qualsiasi sport, della Madonna con quelle basi, partito da lì, quindi, torniamo a noi, ma noi siamo dei poveri cristi, io ho iniziato a farti marziali a 18 anni, a 20 anni, e mo' che mi viene a di, uguale, parti tardi, ci avrai meno risultati, non sarai campione del mondo, ma parti preparazione fisica, e capacità coordinative, e tecniche, quando noi diciamo di un atleta, ah, che bella tecnica, che buona tecnica, guarda che tecnica, di cosa stiamo parlando? Capacità coordinative, applicate a un bagaglio tecnico, ma parte da, quello lì, cos'è una tecnica, definizione da vocabolario, tecnica, due punti, atto motorio con uno scopo, punto, cioè, quello che noi chiamiamo tecnica, che è un atto motorio, cioè una cosa che noi facciamo con il nostro corpo, che ha una finalità, ha uno scopo, quindi, la finalità del mio diretto, è, beccarti e farti male, la finalità del mio, i ponze o i naghe, è, proiettarti sopra di me, e farti cascare per terra, quindi, atto motorio con uno scopo, e cos'è? Coordinazione, e capacità condizionali, applicate poi, a movimento specifico, che devi studiare, devi allenare, in vari modi, quindi, ci sarà il vuoto, ci sarà il sacco, ci sarà i colpitori, ci sarà contro un partner, che te collabora, poi non te collabora più tanto, e poi in opposizione con te, cioè io cerco di farla a te, tu cerchi di farla a me, a livello sempre più elevato di opposizione, è così, che è un processo logico, ma questo, non appartiene alla box, non appartiene al karate, non appartiene alla tai, appartiene, a chiunque, voglia, usare un bagaglio tecnico, e tattico, in combattimento, punto, quindi, non mi venire a dire, io faccio un muay thai, perché è più forte, di, savat, prendiamo adesso, si offenderà sicuramente qualcuno, perché è più forte, bellissimo, bellissimo, la savata, tu lo vedi, ah ma i tai sottosti, che significa, quello della savata, non si può allenare, allora, a me se non concesso, la tai è più forte della savata, io faccio savata, vado in Thailandia, vado a spialli, magari da lontano, se posso, me ci avvicino, se riesco, me ci alleno pure, imparo, e me lo riporto, quello che mi serve, se la savata, allora la savata, diventa come la tai, eh no, sì, però, no, che cosa, cioè, io so d'accordo, che sono delle discipline, che, mediamente, per la tradizione che hanno, per le esperienze che hanno fatto, per i lavori che c'è dietro, sono più efficaci, o migliori, in determinati ambiti, di altri, savassandir, parlavamo di savata, quindi in francese, perfetto, ma cosa impedisce, a una disciplina, che ha esigenze, non dico uguali, ma simili, in alcuni campi, di prendere, quello che è buono di quella, magari, non dico di copiarlo pari pari, ma di adattarlo alle sue esigenze, e addirittura di migliorarlo, io vedo, per esempio, le MMA, è il massimo che c'è, secondo alcuni, praticamente, di MMA, tutti avrebbero fare MMA, no, perché è il massimo, le MMA, hanno delle lacune mostuose, nei pugni, nei calci, nella lotta, c'è, vedi che, atleti di MMA, che sono anche, nei primi, nel ranking, così, che hanno delle lacune, che se uscissero da quell'ambito, non tirebbero fuori i piedi, nella disciplina specializzata, in quello, quindi, non è che tu, non è vero, quindi, è meglio, è una specializzazione diversa, ovvio, devi dividere le energie, fra più campi, è ovvio che, logicamente, diminuisce, magari puoi essere uno specialista, in uno di quei campi, e colmare le lacune, in quell'altro, l'allenamento è sempre, colmare le lacune, e potenziare la di forte, ma anche sulle discipline singole, anche nella box, proprio, da manuale d'allenamento, colmare le lacune, raggiunge i livelli, sufficienti in tutto, e poi, lavori sulle caratteristiche, l'individualizzazione dell'allenamento, si chiama, ma l'individualizzazione dell'allenamento, è l'ultima cosa che si fa, prima c'è tutto il lavoro a monte, e il colmare le lacune, e qui, sembro fissato, ma ritorniamo, ritorniamo all'allenamento fisico, che colma, colma le lacune fisiche, e quello coordinativo, che colma, colma le lacune, tecniche e tattiche, perché, se quando c'è un buon allenamento coordinativo, tu poi riesci, a migliorare tecnicamente, perché ripeto, la tecnica non è altro che un'espressione coordinativa, applicata in un campo, cioè applicata in uno scenario, eh, io c'ho, io c'ho una paginetta, dove scrivo le mie cazzate, per chi, certamente puoi leggere, perché scrivo dei papelli, che sicuramente, che consiglio, consiglio di leggerle, consiglio di leggerle quello che scrivi, eh, ma c'ho anche, fra i pochi video che ho messo, c'è un'intervista, che ho chiesto il permesso, a Raffaele Bergamasco, ex allenatore, della Nazionale Italiana, poi allenatore, della Nazionale Indiana, che ha portato a risultati, la Nazionale Olimpia Indiana, che non aveva mai raggiunto una sua storia, adesso allenatore, della Nazionale, mi pare femminile in Belgio, quindi diciamo che non è l'ultimo, eh, scusa, ma adesso lo dico, dei testa del cazzo, ma è uno che può parlare, no, io, forse un po' la birra, forse l'orario, comincio, comincio a... e Bergamasco dice, a me, ma arriva, ragazzi, innaz... cioè, mi ha dato lui il permesso di pubblicarlo, quindi io alzo le mani, l'ha detto lui, sta lì, che mi ha dato il permesso di pubblicarlo, ma arriva in Nazionale, ragazzi, che non c'è le basi coordinative, e io, che so il tecnico, sto parafrasando, ma il senso è quello, magari non saranno le parole, ma il senso è quello al cento per cento, e io, che so il tecnico nazionale, devo riprendere in mano il lavoro coordinativo, che hanno fatto in palestra, invece quando dovrei solamente prepararli, portarli, fargli la preparazione pre-olimpica, o pre-mondiale, o pre-match internazionale che c'hanno, e portarli a combattere, fine, e invece Metocca riprende la preparazione delle basi, c'hanno alcune coordinative, stesso periodo, che c'era Filimonov e le nazionali russe, Filimonov, che è russo, quindi ancora più diretto, fece il nome e il cognome, di uno degli atleti che si stava allenando, italiano con la nazionale italiana, e poi c'è, nome e cognome, che ancora non mi gira il piede sul diretto, quella era una cosa che se venivo prima, magari gliela potevo correggere, ma ormai è troppo tardi, davanti a una platea dei tecnici da tutta Italia, cioè così, vabbè, avrebbe potuto evitare magari, però sai, i russi sono un po' dritto per dritto, quindi, allora torniamo al discorso che faccio io, allora vedi che le famosi basi, no? Ma le basi non è solo sapere come si diranno tecnici, saperlo e poi farlo e poi correggere le lacune, colmare le lacune, ma prima che sia troppo tardi. E apro una parentesi, visto che ormai tanto, qui stiamo dicendo tutto, tanti che dicono, ah i nazionali e i pucilati italiani c'erano sempre gli stessi, guarda non chiamano mai quelli nuovi, Bergamasco su sto video lo dice, dice, quando dicendo questo, ma arriva gente che non c'era capacità coordinative, la chiusa del discorso fu, e allora io mettendo i miei, che già so, già lo messi a posto diciamo, già so quello che fanno, e vado avanti con quelli, perché non posso azzaltarmi a prendere gente che magari poi gli devo rifare il lavoro dei basi. E questo, vabbè, parla anche del livello, di come lavoriamo in Italia, su tante cose, non solo... Com'è il livello, Enrico, com'è il livello del pugilato in Italia oggi? Come viene considerato in genere, come lo vedi tu? Io posso parlare da opinione dell'uomo da strada, cioè la mia opinione vale zero, cioè vale come quella di lo zio Pino, cioè io non so nessuno per dire come sta la nazionale, come sta il livello della box in Italia, oppure, se vogliamo dirlo in un'altra maniera, posso dirlo come lo può dire quello che guarda la partita in televisione, come il tifoso, cioè quindi il mio giudizio non c'ha nessun valore particolare. Io dico che non siamo messi bene, e il palmarest di atleti titolati che abbiamo fra i professionisti sta a dimostrarlo. I risultati della nazionale Olimpia, quindi del dilettantismo pure, è tanto che non ci abbiamo degli esplorati, nonostante abbiamo un paio di atleti molto molto vari, che sono delle promesse che potrebbero tranquillamente portare a casa delle medaglie importanti, però magari per la nostra storia solo una ragazza, un ragazzo, sarebbe meglio di più, diciamo. Quindi diciamo il livello non è altissimo, ma il problema parte dalla base. Cioè queste cose che io ti sto dicendo che so per chiunque, per qualunque tecnico serio so la banalità della banalità, cioè la base della base della base, cioè proprio che neanche ci si dovrebbe parlare sopra, purtroppo trovano resistenza proprio nelle palestre, proprio fra gli allenatori, fra i club, fra... Io ripeto, ho fatto un sacco d'aggiornamenti tecnici di tutta Italia, così, e io risentivo parlare, risentivo i commenti quando facevamo cose che per me dicevo cacchio, bellissima questa, dietro di me ha tutte cazzate. No, ma che ce fai con sta roba? Sì, non mi metto a fare questo. Ecco. Esempio, visto che siamo in argomento, come funziona Russia o ex Unione Sovietica e poi Russia, come funzionava? Allora, siccome lì c'hanno una storia particolare che sappiamo tutti, che c'era un sistema statale molto inquadrato, lì, nello sport, le informazioni arrivano a tutti, cioè ci sono proprio scuole statali, quindi hanno una formazione molto standardizzata. Tutti sanno tutte le informazioni, tutti questi famosi studi che fanno arrivano a tutti e tutti o quasi li applicano. Quindi, l'allenatore della nazionale Russia chiama gli atleti, sceglie gli atleti fra i migliori, li porta in nazionale, fa solo la preparazione definitiva, quando arrivanno nei loro club di appartenenza non se ne preoccupa perché sa che faranno esattamente quello che devono fare, li prende per la rifinitura finale prima delle cose e vanno alle Olimpiadi e capita pure che, all'Olimpiadi mondiali quello che sia, e capita pure che il tecnico del club da cui proviene l'atleta spesso sta all'angolo con lui, con il tecnico della nazionale, stanno assieme perché lui magari conosce meglio l'atleta, comunque sia un supporto in più. perché c'è questa tranquillità? Perché sa che il metodo è uguale per tutti, sa che tutti lavorano nella stessa maniera in cui lavorano in nazionale, sa che certi errori non li fanno, che certi libri lavori li fanno. Atleta della nazionale ci disse, riceve dalla nazionale, dall'allenatore della nazionale un foglio di carta, ok vai a casa per le vacanze, adesso per il periodo di riposo, fai questo qui, va nella sua palestra, ah ciao maestro, ciao, ah sì, ma è nato questo, devo fare queste cose, l'allenatore che è? Fai vedere, prendi il foglio, lo strappa, tu qui fai quello che dico io, questa è la palestra mia, qui tu t'alleni come dico io, senza sapere che preparazione stava facendo, a che livello della preparazione era, cosa aveva fatto in nazionale, cosa non aveva fatto, quale necessità aveva individuato l'allenatore, il team della nazionale che doveva, cioè, questa è l'Italia, potevamo vincere la guerra, dico io, con la classica non ho battuta, se poteva vincere la guerra, no, non si poteva vincere la guerra con queste teste. Scuola preferita, tipo un girato, io, se ne hai una, quella che ti piace di più, quella che seguiresti di più, quella che ti ha affascinato di più. L'ottanta per cento di quello che faccio, insegno, è scuola russa, però, attenzione, ma mischiata con quella europea, perché, adesso non è, se no sembra che questi sono degli dèi intoccabili, no, c'ha delle caratteristiche, ma tante cose buone ce le abbiamo pure noi. E ancora qui, no, se era un'arte marziale orientale, no, o fai questo, fai quello, non è vero, prendi il meglio di questo e di quello, perché funziona benissimo tutte e due, in alcuni ambiti è meglio quella russa, in alcune cose è meglio, o c'ha cose interessanti anche quella europea occidentale, quindi 80%, anche sempre, c'ho sto 80-20, sempre come cose, 80 russa, 20 europea, dai. Io con il pugilato italiano sono rimasto a Parisi e Stecca, che cosa è venuto dopo? C'è qualcosa di interessante? Guarda, io, se parliamo di Atleti così, anch'io non è che, cioè, li seguo sui nomi, ma non è che sto tantissimo dietro ai nomi e alle cose, e, diciamo, cosa c'è stato dopo? Poga roba, cioè, adesso ci abbiamo qualche, qualcuno, vabbè, l'ha persa recentemente, cinture, cinture europee, cinture interi, ci abbiamo qualche buon atleta, però, quello che io dico, non ci abbiamo quello che va a fare la WBC, cioè, quello che va a fare i titoli, quelli importanti in America, cioè, che va al Benzio Square Garden, io non ci vedo nessuno, ancora, forse, forse là non c'è nessuno dagli anni settanta, credo, eh sì, anni settanta, anni ottanta, cioè, chi c'era? Forse Patrizio Oliva è l'ultimo italiano che è andato un po' un po' fuori, ha vinto un mondiale? Guarda, se ci avete io con le date le cose, adesso, non ti saprei dire, però, no sì, è tanto che non ci abbiamo nomi, cioè, io dico che dobbiamo avere un canelo, però, perlomeno, qualcuno che se la ciò, ma non dico neanche il primo, fra i primi, i primi due, tre, cinque, nella top five, e invece stiamo... La scuola messicana è all'interno della scuola americana o è considerata una scuola sport? No, è una scuola sé. Cioè, se vogliamo fare, tanto quando si parla di scuole, grosso modo, no, la scuola messicana è la scuola sé, è la classica scuola sempre avanti, un sacco di pugni, un sacco di cose, uno ne prende due, cerco dei ridattili, molto fisica, molto a corta distanza, medio a corta distanza. Ecco, un'altra cosa che a me piace, perché mi piace la scuola russa? Perché quella che è più di tutte, se non quasi lunga, che lavora sulla lunga distanza. Cioè, è proprio una box lunga pensata per la box olimpica, che tanti dicevano, ma in tempi non sospetti, ah, vabbè, ma va bene solo per le Olimpiadi, e io dicevo, vabbè, io, magari anche altri, io non è che so, chissà che esperto, però, guardate che se, se si aprono i confini, questi vengono, che possono fare professionissime tutti, che sta scuola non gli manca niente, cioè, c'hanno la media o la corta, come la box americana e messicana, ma questi c'hanno anche la lunga. E poi, infatti, adesso c'è l'ondata dell'est, che tu, vedi quanti ne ha tirati fuori, c'è Bivol, Wusik, Lomagenko, i fratelli Klitschko, tutti questi, cioè, adesso è tutti, tutti da lì, i più forti, cioè, tutti, se vuoi avere quanti ce ne sta, c'è la media, ma perché c'ha tutti questi atleti forti? La media è alta, ma perché la media è alta? Perché la metodologia c'hanno. E quindi, è quello, dici, ah, ma questi perché c'hanno a scuola, c'hanno a metodologia? Ma secondo te, è soltanto metodologia, è proprio un formamentis dei popoli dell'est, perché comunque sono tutti tosti da quelle parti. Allora, l'est Europa, in generale, c'è ancora, c'era e c'è, il culto della forza, delle cose, dei valori birili e delle queste cose. Io, ho tanti amici, anche l'est, c'è lavoro anche con gente dell'est. La cultura uoca ha preso poco da quelle parti. No, no, lì è proprio, c'è lì tutto ciò che le vecchie cose nostre che oggi sarebbero appunto maschiliste sarebbero, lì è ancora vecchia, vecchia scuola. Quindi, culturalmente c'è questo. Questo, tu, lo innesti su una metodologia altamente scientifica, studiata, provata sul campo, proprio a livello, veramente, di metodo scientifico. Ma tu guarda anche nell'MMA, no? Adesso arrivano tutti questi dai paesi satelliti dell'Unione Sovietica, Cecenio, così, o dei, tutti, sono tutti di loro adesso. Perché? Perché lì è proprio una grossissima cultura guerriera, chiamiamola, con i migliori metodi, metodologia e a livello tecnico, a livello tattico, a livello allenamento. E' ovvio che se c'hai anche un numero piccolo, comunque c'è un alto, ti su, un alto livello meglio. Ma se poi invece il numero è grande del praticante, allora il fenomeno ti esce. Se metti, esce un fenomeno ogni mille, se tu c'hai decine di migliaia di praticanti, troppi fenomeni ti rifuori. Ma se sei in realtà piccola, come la nostra, e in più magari non c'hai dei metodi allo stato dell'arte, è ovvio che anche se c'hai il fenomeno, potenzialmente fenomeno, non raggiunge il massimo del suo potenziale e rimane magari uno bravino, bravo, discreto. E ci sono eccezioni tipo Cuba, oppure tipo la Jamaica sui 100 metri. Ma perché un paese così piccolo con poca gente, quindi pochi praticanti, c'ha così tanta gente forte? Lì è genetica. Allora lì è veramente, cioè, i Jamaicani sono portati per la velocità, quindi anche se sono pochi, riescono a tirare fuori tanti campioni. i cubani sono portati per questo cucilato come lo fa loro e quindi anche se sono pochi riescono a tirare fuori tanta gente forte. Però ecco, lì c'è una questione di genetica, di cultura, di cose. Però se non sei, non c'hai questa fortuna, diciamo, di averci una popolazione portata per una disciplina, perlomeno dovresti averci il top del top della metodologia e dell'allenamento. Così, quei pochi che c'hai, però, hanno un buon livello e piano piano tirano su, nel tempo esce fuori il fenomeno, esce il campione. Non ce n'avrai quanti l'Est Europa, quanti la Russia o i paesi dell'Est, però, invece da noi, ripeto, secondo me, le prime lacune sono proprio a livello di conoscenze e applicazioni delle conoscenze. Non è che non ci sono, e attenzione, io se no dovrò imparare, ho imparato qui in Italia, ho girato, ma la maggior parte ho imparato tutto qui. Ci sono, non so tanto seguite, non so molto ascoltate e c'è una grossa resistenza alle novità, una grossa resistenza a ciò che viene inteso come un passare solo alla mia autorità. Io mi sento in un'autorità, io sono il maestro, io sono l'allenatore, quindi sono un dio nella mia palestra e non permette a nessuno di venirmi a dire che devo fare. Se questo è l'atteggiamento, non vai lontano. Se tu sei umile, dici ok, posso imparare chiunque, prendo tutto quello che può servire, mente aperta e soprattutto capì anche quello che uno ti dice, ti mostra. Perché io, adesso scusami, ma lo devo dire, a tanti di questi aggiornamenti, di queste cose, l'80% dei dinosauri che stava lì neanche capiva di che stava a parlare quello. Cioè gli usava una terminologia un po' tecnica come magari qualche volta faccio io e quelli stavano lì e c'è, capisci, c'era anche quello. Perché non è, senza offese, io lo capisco che uno magari di una certa età non è che può cambiare testa dall'oggi al domani. però i giovani almeno io spero, cioè i giovani tecnici, i giovani allenatori con l'esperienza e le cose buone che abbiamo nella nostra box da prima mettessero dentro queste cose nuove, fra virgolette, che non è nuove, però queste metodologie più, che si sono dimostrate più efficaci magari, che ne sai, in futuro c'è una rinascita. Pugile, Pugile che ti ha sempre piaciuto dei tempi anni 60, 70, 80, fino agli 80. C'era qualcuno? Roy Jones Jr. per me è stato, cioè tanti fanno le classifiche più forti così, Roy Jones Jr. è più forte di tutti e di tutti i tempi. Tu mi dirai, eh ma c'ha un record ha perso un sacco di goni, aspetta, Roy Jones Jr. finché ha fatto il Pugile al top della sua carriera, poi quando è andato giù si è lasciato andare, ha fatto un sacco di cazzate, ma finché è stato veramente lui che ha fatto E, per me è come lui, cioè, poi queste sono dichiarazioni che lascia del tempo che trovano, perché... Sì, no, è un fatto, stiamo parlando proprio di gusto personale. C'era tutto, cioè la velocità, la potenza, la fantasia, la reattività, c'era una macchina di rapugni, era... cioè, dico lui perché piaceva, poi ce ne è tantissimi, ce ne è tantissimi, poi Jones Jr. è quello che per me è, e poi uno che mi ha fatto un po', riprende... l'Omacenco, ultimamente, mi ha fatto riprendere, perché lui ha fatto quelle cose che, diciamo, teoricamente, se potessero fare, ma nessuno faceva più o non faceva più da tanto tempo, lui l'ha messo in pratica. cioè, lui è l'esempio e soprattutto perché, per carità, il talento è sempre anche naturale, cioè, devi nascere con un certo talento, però lui, siccome è un pugile moderno, quindi, di cui sappiamo tanto di come si allena, di quello che fa, lui è anche un esempio di quello che piace, invece, della metodologia. Cioè, se usi metodi giusti nella maniera giusta, se conosci la famosa teoria e la applichi, questi i risultati. E usi che... Dà l'idea di una specie di pugilato quantico e intendo che è come se avesse già di fronte a sé tutti i possibili futuri di quello che farà l'avversario di fronte a sé e lui, per ognuno di quelli, ha una risposta già pronta. Si ha un rapido ad azione. E ce l'ha perfettamente stampata in testa. Per cui ogni volta lui scientificamente fa, reagisce, rifà e reagisce di nuovo come se già sapesse quello che l'avversario risponde. Sì, ma la probabilità d'azione, cioè la velocità di reazione allo stimolo afferente che è al 75% cognitiva e solo per il restante è capacità condizionali, cioè forza, velocità, cioè la capacità di elaborazione del cervello. E quella è allenabile. È quello che dico. Vedi quando dico la metodologia? Cioè cose anche che sembrano, no, vabbè, dici, ma alleno tanto, tiro tanti cazzotti, faccio tanto allenamento contro resistenza, vado a correre. Sì, per carità, la base è quella. Ma quando arrivi a certi livelli servono delle qualità, diciamo, ulteriori, ma che sono allenabili. Cioè l'omachenko, quando dicevo che l'omachenko non è, è metodologia, Usik è un lomachenko più grosso. Più grosso, sì. Per questo, tra l'altro, per quello mi piace. E infatti il padre dell'omachenko, Anatoli, che allena Roma, ha allenato anche Usik e ha aiutato anche la nazionale ucraina. Però devo dire la verità, i vecchi incontri, rivedendo i vecchi incontri, anche quelli lì con cremente russo, Usik era totalmente diverso. Sì, poi c'è, 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 c'è uno sviluppo, ci so fase nella cosa. Però, vedi, l'impostazione sovietica della box, la vedi tutti, io ho visto dei video vecchissimi di Triple G, Golovkin, ho visto dei video di altri, dei fratelli Klitschko, tu li vedi da giovani, sembra tutti uguali, cioè boxava tutti alla stessa maniera. E lì ti fa vedere, quello è il metodo, quando dici la metodologia russa, no? Sovietica. Tutti c'avevano quell'impostazione. Poi c'è l'individualizzazione, ognuno in base alle sue caratteristiche, crescendo, diventando professionista, anche perché la box professionistica è diversa da quella olimpica amatoriale, cioè cambia proprio l'impostazione. Infatti, la box olimpica, l'obiettivo è fa punti, perché l'atterramento in tre round è difficilissimo che lo metti K.O. L'obiettivo della box professionistica è l'atterramento, cioè io te devo mettere K.O, non ce la faccio, vinco ai punti. Però, sono proprio le finalità, diverse, cioè nella box olimpica tu già parti che non punti a buttarlo giù, tu punti solo a, quindi la strategia, la tattica cambia tutto. Ecco perché la box olimpica tanti se la mentono, vedi sempre web, forum, internet, ah ma che è, sembra scherma, sembra, esattamente, su tre round tu non lo, è difficilissimo che lo butti giù, devi fare punti, diventa una scherma di pugni, diventa schermistica, e quindi la guardia bassa, perché devi avere più visuale, per anticiparlo, stai più a lunga distanza, entri e esci, entri e esci, papà metti i golpi e vai via, perché devi fare punti? Quindi cambia totalmente, box professionistica, obiettivo, atterramento, c'ho 12 round, e allora faccio anche la box messicana, mi metto lì, chiudo, bam 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 bam, e cerco di martellate, cerco di stare lì, e ti do pressione, non ti do, guardia chiusa, perché arriva le bombe, cioè, cambia totalmente, sono due sport diversi, è come i 100 metri e i 1500, è corsa eh, sempre corsa è, ma se va a vedere l'allenamento di uno che fa 1500 o 10.000 addirittura e uno che fa i 100 metri, sembra che fanno due sport diversi, tranne alcune cose, però sempre corsa, e quindi è quello diciamo, però ecco, tu li vedi tutti uguali, poi professionisti, specializzazione, caratteristiche, e ognuno ha le sue caratteristiche, quindi lì vengono fuori le differenze, e sto discorso, riportandolo al discorso di tutte le arti marziali, se può fare con tutti i pugilismi, tu fai il pugilismo che prevede calcio e pugni, e le prime cose, ok, tu ne fai un altro che c'è un'altra specializzazione, va bene, ma la base sarà quella della preparazione, poi tu ti adatti alla tua cosa, alla tua caratteristica, a quello che tu vuoi fare. so discorsi che fra i non addetti ai lavori non passano, perché noi siamo la generazione di videogiochi, quindi prendo quel personaggio, deve fare quelle mosse, e c'ha quell'arte marziale, e quell'altro personaggio è quindi, sto lì con il joystick, ti, 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 la realtà non è così, in realtà, un pugno, un pugno, un calcio, un calcio, poi le differenze ci sono, per carità, ma, nei dettagli diciamo, 80% deve essere uguale, se no, se no, quando c'è qualcosa, è assolutamente unico così, nella mia esperienza, è una cazzata, quindi quando trovi quelli che tirano i pugni speciali, le onde energetiche, il pugno, quello che ti sfonda, che qui, io ti parlavo, quando abbiamo deciso l'argomento, che poi dopo abbiamo, diciamo che, il podcast si è deciso da sé stasera, che ci siamo, ci siamo, siamo rimasti sul pugilismo, però quando abbiamo deciso più o meno l'argomento, io ti ho accennato a qualche cosa, della, della, di questa sorta di, di ribellione, all'interno di determinati stili tradizionali, che sta, che è quasi il, è il comune denominatore, di questo podcast, spesso, finiamo per parlare di, per affrontare quel tipo di argomento lì, tradizione, evoluzione, il pugno va dato in quel modo, il piede va girato così, tot gradi, perché altrimenti non funziona, quel tipo di discorso là, perfetto, e molto spesso, quasi sempre, si finisce a parlare di pugilato, forse, perché è il metodo più collaudato, in assoluto, al mondo, perfetto, ma io, le variazioni, o le specializzazioni, mi sta bene, ma mi devi chiedere, perché, e il tuo perché deve avere un senso, quindi, se tu mi fai anche una tecnica un po' assurda, però mi dici, guarda, questa tecnica, io la devo fare, perché, invento totalmente, proprio di sana pianta, perché questa disciplina, viene dai pescatori, della Papua Asia, che stavano sulle barche, venivano, ti posso dire, ti faccio un esempio più concreto, da una tribù sperduta, che nell'Indonesia, Java, che non vuole contatti con gli occidentali, o con nessun altro, perfetto, e questi stavano sulle barche, venivano aggrediti dai pirati, e quindi, le barche erano fatte, con delle assi di legno, molto strette, che se mettevi un piede fuori, cascavi, e allora dovevano stare così, e tirare calci e pugni, da quella posizione, io ti dico, ah, va bene, mi sta bene, in questa situazione, quello che tu fai, c'ha senso, sì, giusto, magari, adesso, dico, sì, come alcuni stili di Sumatra, che vanno subito a terra, perché con i monzoni, piove, fangoso, si scivola, io combatto al suolo, perfetto, ma nel momento in cui tu, non c'hai più quelle condizioni, e vuoi farmi quella cosa, perché mi dici, che con quella, c'hai un vantaggio, su quello che invece, sta piantato per terra, normale, se muove normale, amico mio, no, delle due l'una, o è una specializzazione, dovuta a una cosa, molto particolare, e te la posso accettare, o, non è la cosa, ottimale da fare, e se tu, l'accetti questa critica, sei una persona, con onestà intellettuale, lo riconosci, sì, vabbè, però, a me mi piace, a me mi non si dice, vabbè, a me piace, lo faccio, e mi, e io lì, è chiusa la questione, io non ti dico niente, vai avanti, divertiti, perfetto, ma quando tu, mi arrivi, ah, voi non capite niente, ma noi quando facciamo così, vi tiriamo, facciamo questo, eh, perché noi per la strada, eh, voi invece, lì la critica, anche violenta, ti tira fuori anche, diciamo, la maleducazione, è automatica, capisci, come, però, guardiamo anche il lato opposto, quelli che tu gli spieghi, che questo stile tradizionale, di Kung Fu, fa questa cosa, per questo motivo, e c'ha senso, e, no, io faccio sport e combattimento, quella, tutto il Kung Fu è una stronzata, sono tutte cazzate, bla 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 bla, non voglio ascoltare niente, e vado diritto, vabbè, tuo diritto, però, allora, è inutile che discutiamo, cioè, sta tu con l'idea tua, se mi chiedi perché te lo spiego, se non ti interessa saperlo, me lo tengo, io, ipotetico, maestro di Kung Fu, che ti vuole magari condivide, per carità, poi è vero, che nelle arti tradizionali, essendo appunto, una questione più culturale, e non avendoci, un risponso pratico, che può essere il compito, l'infronto sportivo, o l'applicazione reale, in contesti non collaborativi, è anche vero, che attirano la qualunque, cioè, i cazzari, come, nel Kung Fu, nelle arti orientali, come percentuale, non si trovano, in nessun sport da combattimento, nessuna disciplina, sono d'accordissimo, però, in mezzo a tutta questa marmaglia, io ho conosciuto, della gente, validissima, aberta mentalmente, onestissima, che ti fa questi discorsi qui, guarda, questo, lo facciamo, per tradizione, questo, è questa cosa, che si faceva, in questi particolari casi, però, sta stessa gente, poi, fa sparring, si allena fisicamente, fa la preparazione, combatte, tira, fa tutto, usa il sacco, usa i colpitori, cioè, e lì riconosci, che, ok, questo sì, farà un tradizionale, però è una persona onesta, è una persona che, quando ci parli, vedi che, non ti comincia a sparare, no, perché il maestro, ti diceva, no, ma qui l'energia interna, questo, l'onda energetica, ecco, questi qui, li mettiamo tutti, da una parte, perché, ripeto, no, vabbè, questi, cioè, che gli vuoi dire, è come le sette, no, cioè, è una setta, quando uno vive di una fede, tu non puoi andare a toccare la fede, sì, diventano culti veri e propri, sì, è una fede, è un culto, e tu non gli puoi dire, Dio non esiste, perché, come te permettimi, non offendi la fede, vabbè, vivi di fede. Enrico, ce ne facciamo un'altra, quando ti va? e approfondiamo, e cominciamo ad approfondire, oggi abbiamo fatto un cappello introduttivo, abbiamo fatto un cappello introduttivo, siamo rimasti sul pugilato, e, se ti va, possiamo anche approfondire il discorso sullo striking in genere, che sia nelle aree un po' considerate più tradizionali, oppure no, se ti va. Io sempre, anche per discutere in generale, ripeto, per quella che ne posso sapere io, perché, anche io, non è che sono, ho i miei limiti, insomma, ho le mie esperienze, quello che posso dire, la mia opinione, la dico sempre volentieri, mi piacerebbe, già te lo anticipo, ecco, visto che oggi abbiamo parlato molto in generale, magari andare sullo specifico, di determinate cose, e andare più un po' dentro, ma proprio anche cose banali, eh, non deve essere chissà chi, anche perché io non ho il livello per chi, cioè, io non è che so chissà chi, però, anche domande, le classiche domande della, cioè, come si tira un pugno? Perché si tira così? Perché il pugno girato dritto? Che differenza c'è? Cioè, cose, ok, ok, banalissime, che, ripeto, che qualcuno anche qui fa passare come, oh, no, spiegazioni, no, sono cose di una banalità assurda, però con dettagli, che se li sai, ti fanno scegliere meglio, ecco, mettiamola così. Perfetto, ok, poi ci aggiorniamo, ci sentiamo, decidiamo, spero che la prossima volta sarà con noi anche Fabio, ci tenevo che ti, che fartelo conoscere. Volentissimo. Ti ringrazio ancora una volta, ci sentiamo presto, ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi, ci hanno seguito, grazie ancora, tutte le informazioni di Enrico, se ci vuole dare qualche informazione, stanno nella descrizione della... Liban, se volete fare avversamenti su Liban, quello volentieri, che c'è bisogno. Tutti i dati stanno sotto, Enrico, grazie ancora, grazie ancora. Grazie a te, ciao. Ciao, grazie a tutti, ciao, 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 ciao. Ciao, Ciao,